salve a tutti sono charlie barnao e vi presento oggi il corso di sociologia della sopravvivenza questa è la prima lezione sono un docente di questo ateneo perché io non mi conoscesse non avesse fatto con me sociologia primo anno sono un sociologo o un dottorato di ricerca in sociologia ricerca sociale all'università di trento e anche a trento mi sono laureato in sociologia e proprio da qui vorrei partire perché vorrei inizialmente spiegarvi da dove è nata l'idea di fare un corso di sociologia della sopravvivenza questo credo che sia l'unico corso in italia attivato su questo su questo argomento è un inizio diciamo così siamo i pionieri di questa di questa disciplina credo di poter dire che tutto è nato proprio con l'esperienza che ho fatto a trento tanti anni fa tantissimi anni fa quando avevo l'età di molti di voi mi sono trasferito a trento per studiare sociologia allora non c'erano sociologie al sud italia se non a napoli sono di palermo quindi comunque si trattava di andare via di casa scelsi di andare a trento perché allora era era il corso di laurea migliore per quanto riguardava la sociologia andando a trento non avevo dove alloggiare non avevo contatti diciamo così particolari in quella città insomma sono finito ad abitare in una comunità d'accoglienza per persone con problemi con vari tipi di problemi problemi abitativi problemi familiari problemi psichiatrici quindi c'erano senza dimora prostitute con queste persone persone che venivano dal carcere con queste persone abitavano dei volontari quindi abitavano insieme dei volontari che potevano essere anche degli studenti io sono stato in questa casa in questa grande comunità di accoglienza dove abitavamo insieme persone con problemi e volontari per tantissimi anni per 15 anni e sulla base proprio dei rapporti di amicizia che ho sviluppato con queste persone con cui abitavo ho intrecciato delle relazioni significative che mi hanno portato anche a conoscere queste persone negli ambiti più disparati grazie alla conoscenza di queste persone ho avviato successivamente una ricerca sulla vita di strada sulla prostituzione in generale mi sono reso conto proprio dal rapporto d'amicizia con queste persone di quanto fossero delle persone straordinarie che avessero quindi delle qualità eccezionali di sopravvivenza nei contesti più estremi molti di loro avevano fatto anni di reparti psichiatrici anni di carcere anni di vita di strada e mi rendevo conto che stando con loro dalla mattina alla sera a volte per mesi per anni che avevano sviluppato proprio sulla base di queste esperienze fortissime profonde difficili estreme a talvolta molto violente avevano sviluppato delle qualità straordinarie di sopravvivenza ed è proprio un debito che ho contratto con queste persone perché è stato per loro che ho iniziato a interessarmi a determinati argomenti da quell'esperienza è partita poi la ricerca che mi ha fatto fare la tesi di laurea sui senza dimora la ricerca che mi ha portato poi a studiare i senza dimora anche durante la ricerca per il dottorato la ricerca che mi ha portato poi a studiare il mondo della prostituzione le strategie di sopravvivenza sia psicologica che materiale delle prostitute e dei prostituti in generale è partito da quell'esperienza tutto l'interesse per la sopravvivenza e per quelle che sono le strategie di sopravvivenza che vengono messe in atto dagli attori in condizioni di vita estrema vediamo qual è la descrizione del corso il corso ha lo scopo di introdurre gli studenti e le studentesse ai fondamenti della disciplina ve l'ho già detto è una disciplina nuova la costruiamo insieme in particolare il corso si propone di definire i fenomeni sociali in contesti di lotta per la sopravvivenza la sopravvivenza come vedremo può essere definita da vari punti di vista psicologico culturale materiale e cercheremo anche di capire quali sono i principali concetti le nozioni principali che sono necessarie e necessari per l'analisi delle strategie di adattamento e di sopravvivenza adottate dagli attori sociali in situazioni di vita estrema se qualcuno di voi si ricorda qualcosa spero proprio di sì del corso di sociologia del primo anno ma anche i corsi di teoria sociologica già da questo tipo di linguaggio si sarà reso conto che quando si parla di strategie si parla di razionalità utilizziamo quindi un approccio strettamente legato al paradigma dell'azione obiettivi del corso senz'altro acquisire una conoscenza di base dei principali concetti della sociologia della sopravvivenza e anche acquisire la capacità di applicare questi concetti all'analisi delle strategie di sopravvivenza in situazioni di vita estrema quindi partiremo da una serie di concetti di base per capire che cos'è la sociologia quindi della sopravvivenza da una definizione di partenza la distingueremo rispetto a concetti vicini come quello di resistenza resilienza adattamento ma ci concentreremo appunto sulla specificità di quella che è la sopravvivenza vi dico subito che è propedeutico conoscere per partecipare a questo corso meglio per capire quello che diciamo per riuscire ad andare in profondità rispetto a quello che diciamo conoscere bene i concetti sociologici di base quindi se ci fosse qualcuno di voi che ancora non ha dato sociologia o che l'ha data e non si ricorda più i concetti sociologici di base riprendeteli quali sono i concetti sociologici di base che utilizzeremo particolarmente durante il nostro corso di sociologia della sopravvivenza sicuramente quello di azione sociale relazione sociale sistema sociale capitale sociale ruolo sociale gruppi sociali cultura valori norme istituzioni identità socializzazione ovviamente tutti questi concetti noi li vedremo in azione all'interno di contesti di vita estrema e quali saranno i principali contesti che analizzeremo durante il nostro corso sicuramente quello dell'homelessness cioè della vita di strada dei senza dimora la prostituzione e la guerra parlando della guerra quest'anno introdurrò una parte monografica sull'addestramento militare sulla tortura andiamo avanti e vediamo quindi quelle che sono le principali risorse per l'apprendimento quali sono i libri di testo di questo corso libri di testo obbligatori per tutti sono due uno è sopravvivere in strada le menti della sociologia della persona senza dimora e l'altro è le prostitute vi precederanno inchiesta sul sesso a pagamento questi due libri dicevo sono obbligatori per tutti il primo sopravvivere in strada è una ricerca molto lunga è la mia tesi di dottorato che come vi ho anticipato si è svolta sulla vita di strada in particolare ho studiato le strategie di sopravvivenza dei senza dimora la ricerca è centrata sulla vita di strada a trento sulle strategie di sopravvivenza degli attori sociali per strada anche attraverso la formazione di gruppi a questa ricerca nel corso delle lezioni affiancherò un'altra ricerca sempre sulle strategie di strada però è una ricerca più recente che riguarda le strategie di sopravvivenza in alcune città della colombia quindi ho studiato per è ancora in corso di fatto la ricerca ho fatto diversi mesi di osservazione partecipante in particolare a bogotà e a cali questa questa ricerca sopravvivenza in strada appunto pubblicata con la franco angeli è affiancata per quanto riguarda i libri di testo da un altro libro ancora in questo caso è un libro della rubettino le prostitute vi precederanno quest'altra ricerca anche questa molto lunga e durata oltre dieci anni sulla prostituzione in particolare la prostituzione sommersa maschile e femminile ho studiato per diversi anni la prostituzione all'interno dei night club per quanto riguarda la prostituzione femminile e la prostituzione nel mondo del cosiddetto battuage quindi il sesso impersonale in luoghi pubblici per quanto riguarda la prostituzione maschile la ricerca è stata condotta in questo caso sia in italia che all'estero vi presenterò parte dei risultati anche della ricerca condotta all'estero a las vegas e anche in parte in colombia questi sono i libri di testo obbligatori parlando dei frequentanti ovviamente poiché tratteremo anche altri argomenti altri contesti di sopravvivenza vi ho già anticipato che una parte monografica sarà dedicata alla sopravvivenza in situazioni di vita estrema in guerra in particolare poi ci occuperemo di tortura addestramento militare diciamo per questi altri argomenti oltre ai contenuti che verranno esposti durante le lezioni vi darò ulteriori indicazioni bibliografiche quindi l'accesso a materiale che potrete scaricare gratuitamente articoli o quant'altro che vi servirà poi per integrare quanto detto a lezione per quanto riguarda invece gli studenti non frequentanti che significa non frequentanti in un corso che si svolge online che ci potranno essere degli studenti che o per scelta non sono d'accordo sull'insegnamento online o non gli piace il modo in cui insegno o per necessità non hanno accesso alle risorse non hanno un computer non hanno accesso alle risorse online per qualunque ragione loro potranno comunque presentarsi all'esame quindi tuttavia faranno un programma leggermente diverso in quel caso oltre ai due libri obbligatori per tutti gli studenti che si presenteranno con un programma da non frequentanti dovranno scegliere un testo all'interno di un elenco di libri presente nel programma ufficiale della materia che potete scaricare l'organizzazione della didattica è fatta da lezioni frontali lezioni frontali che registrerò una cosa importante le lezioni verranno caricate all'inizio di ogni settimana quindi all'inizio di ogni settimana di lezione caricherò tutte le lezioni della settimana quindi questa è la lezione di questa settimana all'inizio della prossima settimana caricherò tutte quelle che saranno le lezioni di sociologia della sopravvivenza della prossima settimana alle lezioni frontali spero di riuscire ad affiancare dei seminari fatti da testimoni privilegiati chi sono i testimoni privilegiati sono degli esperti di strategia di sopravvivenza anche questi spero di riuscire a confezionare delle lezioni da registrare poi da caricare nel vostro sito della didattica online modalità modalità di accertamento la valutazione sarà realizzata attraverso un colloquio orale basato sui testi indicati in bibliografia se doveste avere particolari necessità sono rintracciabile attraverso la mia email ovviamente per ora non è possibile fare un ricevimento di studenti di persona se qualcuno avesse bisogno di un colloquio possiamo senz'altro organizzarci attraverso skype quindi fare un colloquio per esempio via via skype bene termina qui la prima lezione del corso di sociologia della sopravvivenza in cui vi ho presentato brevemente il nostro corso vi do appuntamento alla prossima lezione in cui ci addentreremo inizieremo ad avvicinarci a quello che è l'argomento sociologia della sopravvivenza e cercheremo quindi di dare una prima definizione di che cosa studia di che cos'è la sociologia della sopravvivenza buon lavoro